Sì, venga quasi. Sai chi era quella? La moglie dell'amministratore. Un ladro. Sta qui dentro. Un ladro. Venga quasi, dove va? Signorina, stia qui. Non ti faccio vedere. Tutti i tipi. Ci sono dei pini enormi, con delle alpine grandissime, con tanti pinoli. Ah, eccole, ecco dove sono. Sai che ora è? Eh sì, figurati, mezzanotte. Andiamo, andiamo che non voglio perdere il tramonto. Ti porto in un posto che è la fine del mondo. C'è un silenzio di tomba, ma te ne ho parlato troppo. Ora lo devi vedere coi tuoi occhi. Vedrai, è bellissimo. Bellissimo. Piano, piano. Ecco, ecco là, potrò urlare quanto mi pare. E poi potremo ridere, scherzare, vedrai, ho tante di quelle cose da farti vedere. Ehi, c'è qualcosa che mi fa male. C'è qualcosa che mi fa male.